c'è un certo imbarazzo buongiorno a tutti quanti voi nel commentare quello che avviene nella politica perché tutto quello che diciamo è falso non c'è nulla di vero e qualcuno l'ha definito scherzi a parte qualcun altro lo ha definito una farsa tutti citano flaiano è una cosa più grave che seria insomma io non lo so cosa sia io so soltanto che sembra veramente un truman show in cui ci sono queste telecamere sulla crisi politica italiana e ogni giorno cambia qualcosa su questa crisi politica italiana ieri eravamo sicuri che cottarelli avrebbe fatto un governo assurdo cioè un governo che partiva senza nessuna maggioranza parlamentare quando ce ne sono delle altre e quindi è di per sé assurdo cioè se la spieghi una persona normale la persona normale non riesce a capire come si possa far fare un governo una persona che non gode di una maggioranza in parlamento e già si sa mentre c'era un altro governo pronto a quella maggioranza in parlamento posto che ti possa piacere o meno quel governo ma stiamo parlando nella logica oggi giornali ci dicono che è tutto da rifare cioè che cottarelli ieri con quella scena imbarazzante da hollywood party sembrava peter sellers che se ne andava via dalla casa del produttore di hollywood attraverso una porta di servizio e la scorta che lo cercava dove finito peter dove finito peter insomma nessuno come l'indiano che si faceva sparare sui monti della california così ieri sembrava la scena non da paese normale ma da suc quello che è avvenuto al quirinale oggi cottarelli stamattina è già andato al quirinale per un colloquio informale ma la roba vera che i giornali oggi raccontano è che l'allarme tutti dicono dello spread ha riportato in auge la trattativa con il movimento 5 stelle e la lega ci sono due fattori fondamentali secondo i giornali che ce lo farebbero pensare il primo lo dice giannini lo dicono tutti quanti i giornalisti economici e che un governo di missionario mi sembra verderami ma non solo lui un governo di missionario non sarebbe cioè senza fiducia non sarebbe in grado neanche di gestire possibile aiuto intergovernativo previsto dei meccanismi europei se l'italia dovesse andare vicino al default esattamente quindi quello che voleva evitare mattarella cioè un governo che non ha nessuna capacità di incidere neanche sui meccanismi europei se le cose dovessero andare mare seconda questione che ti fa pensare che qualcosa sia cambiato improvvisamente l'altra è gigantesca stronzata e cioè di pensare che si possa chiamare un impeachment per un presidente della repubblica che non mi piace che ha fatto degli errori incredibili d'accordo ma che ha semplicemente rispettato in maniera debole pedissegua un articolo della costituzione insomma ci ha ripensato di maio a non facciamo più l'impeachment oggi devo dire che i giornali hanno delle retroscene in cui dicono che di maio ci avrebbe ripensato mentre invece salvini sarebbe sempre più arrapato sull'idea di andare a votare si dice addirittura il 29 luglio queste sono le ipotesi che circolano perché salvini molto più di di maio sa che le elezioni lo porterebbero a dei risultati clamorosi 25 26 27 per cento il punto sostanziale è che salvini sembra sempre più lontano dal movimento di berlusconi almeno fino a ieri e che quindi queste elezioni lo vedrebbero da solo correre non più con un centrodestra unito quindi sarebbe sì un 25 26 per cento di voti ma comunque inferiore a quelli della coalizione del centrodestra che ricordiamo noi era del 32 per cento altra novità della giornata di ieri anche questa è inspiegabile la meloni ha detto che darebbe la fiducia a un governo giallo verde notizia clamorosa questa ma che ha un grande significato dal punto di vista diciamo elettorale politico perché vuol dire ulteriori parlamentari che si andrebbero ad aggiungere a una maggioranza che diventerebbe molto più solida da parte del governo giallo verde e giannivi continua dritto sulla sua strada dice che le follie sovranistiche di salvini e di maio ci sono costate 200 miliardi io non penso che sia andata così lo racconto in un pezzo oggi sul giornale che si intitola titoli di stato titoli di coda raccontando un po di cose che sono avvenute ieri tutti si fissano sullo spread a dieci anni ieri anche in bot hanno dato dei segnali importantissimi se vi legge del mio pezzo capite come la penso io per bel pietro e non solo per lui lo spread è colpa di mattarella va bene mattarella questo sarebbe il grande errore commesso da mattarella che con questa sua incertezza ha fatto sì che lo spread saltasse disastro mattarella è il titolo della verità appunto carlo risè addirittura uno psichiatra sulla verità parla della figura archetipi archetipica del senex scusate non voglio fare tanto il saputo ma leggo quello che scrive claudio rosè cioè l'archetipo del vecchio re che fa di tutto per ostacolare l'avanzata del nuovo quindi di salvini e di maio quindi è letto in termini psicoanalitici quello che è psichiatrici quello che sarebbe l'atteggiamento di mattarella mattarella nel caos ultima follia votare a luglio questa è la tesi del giornale che di tutti i giornali è quello che sembra dare più il senso del pensiero berlusconiano per cui berlusconi a luglio proprio non ci vuole andare a votare berlusconi che fine affatto ci chiede qualcuno qua berlusconi sta zitto in buono con la sua pattuglia di parlamentari e quello che ho appena detto il giornale lo testimonia chiaramente di andare a votare non gli va ettinger è il commissario europeo al bilancio uomo della zvu oggi giornali ci spiegano che non è la prima gaff quella che ha fatto ieri il mercato indicherà l'italia inviterà l'italia a non votare populisti è una cosa incredibile che ha detto ci sono pochi cavoli è vero che il mercato indica qualche cosa ma che un commissario europeo cioè un politico di una cosa di questo tipo è di una gravità sconsiderata ettinger però ne ha detto di tutti i colori oggi sui giornali ritroviamo il fatto che lui a un certo punto disse di una delegazione cinese ma sì sono quelli là con gli occhi a mandorla e con i capelli con la riga sinistra e con il lucido da scarpe un'indicazione pubblica su un giornale cioè questo è peggio della mogherini perché la mogherini è inutile è il senso del renzismo no hai nominato una tua amica per togliere dal ministero degli esteri perché volevi piazzare qualcun altro l'italia ha si è beccato il commissario europeo più inutile più incredibilmente assurdo come la mogherini però la mogherini c'è un vantaggio sta zitta inesistente prende il suo stipendio e non fa cioè fa danni nel non farli ettinger invece parla purtroppo ex governatore di un land tedesco ettinger ne dice di tutti i colori e secondo me alla fine che la interpretazione che mi dato ieri panetta a radio 105 siccome questi commissari sono in scadenza e pensano sempre a dove ritorneranno cioè a casa loro in realtà il loro occhietto e le loro dichiarazioni sono anche fatte a beneficio del proprio elettorato l'altra cosa che secondo me è una storia pazzesca è questa cosa di di battista di battista che va a san francisco per fare il reportage porca puttana oggi su tutti i giornali la foto di battista e quando parte quando non parte parte il 29 maggio rimane in italia oh ma di chi stiamo parlando di enaudi di moro di fanfani ma che cacchio ma chi se ne frega dove va di battista con i soldi che gli ha dato berlusconi apro la parentesi e la richiudo perché va con l'anticipo che gli ha dato per il libro la mondadori che è legittimo ma va benissimo ma adesso voglio dire di battista va a san francisco ma ragazzi ma rimettiamo le cose al loro posto è una cosa cioè da quando avranno vinto quando questi avranno il 51 per cento e che facciamo ma veramente il cine giornale luce di battista è atterrato a san francisco di battista e la moglie il figlio tutti vestiti di jeans sono andati finalmente a fare un reportage nei ghetti di san francisco ma guarda è una roba che mi fa veramente è una cosa incredibile spenti i tutor sulle autostrade anche questa mi sembra una cosa incredibile sapete perché io sono contentissimo così posso andare a 200.000 ma adesso scherzo non ci andrò perché se non mi arrestate però la cosa fantastica magari a 150 invece che a 130 quando c'è l'autostrada a 5 corsie ecco concediamolo peraltro è già previsto da alcuni codici ma il punto fondamentale è che i tutor sono stati scritti sono stati spenti per una bagatella legale perché pare che autostrada abbia fottuto il brevetto a un piccolo imprenditore e io pagasse basta ma non è possibile che in questo paese si spengono i tutor si sequestrano prima di una sentenza è un paese in cui veramente avviene di tutto abramovic diventa cittadino israeliano e io la trovo una storia fantastica la citano oggi tutti i giornali 9 miliardi di dollari del suo patrimonio o di euro ma gli inglesi lo cacciano non gli rinnovano il permesso di soggiorno gli inglesi ogni tanto sono veramente tosti e se ne fottono e abramovic ma essendo uno di garca russo di cui loro considerano molti legami con putine quindi tutto quello che è avvenuto in russia questo signore miliardario se ne va da celsi o non so dove avesse la sua grandissima villa a londra e con i suoi aerei elicotteri e si ne va a vivere a tel aviv uomo di origine ebraica io trovo questa storia di abramovic a tel aviv una grandissima storia vote with the fit in realtà qua non è il vote with the fit di tradizione appunto anglosassone ma è la tradizione di una nazione che se ne fotte anche dei miliardari non come fanno i francesi che lo mandano a quel paese miliardari perché li dassero al 90 per cento ma perché su un principio di politica estera hanno deciso giusto o sbagliato che sia che gli origarchi russi devono andarsene via e sono guai per londra direi che se vi è piaciuta questa zuppa condividetela questa sera abbiamo matrix in seconda serata quindi alle 23 30 ancora parleremo delle vicende politiche non so che diremo perché fino a che questa politica non ci taggarerà qualche informazione in più siamo tutti quanti appesi un filo ciao